Dopo aver passato decine di ore in compagnia di Days Gone, siamo finalmente pronti a darvi il nostro giudizio sull'ultima esclusiva Sony. Seguiteci che vi raccontiamo se ci è piaciuto e perché. Days Gone è caratterizzato da una narrativa forte e cupa, ma anche afflitta da alcuni importanti problemi di ritmo. Per tre quarti di gioco, infatti, la trama più che muoversi in avanti sembra girare intorno, permettendo all'utente di imparare a conoscere le regole dell'Oregon con tutta calma. Anche le tante missioni sono purtroppo privi di particolari guizzi creativi, e sono alternate da una manciata di attività che, come in un generico open world, si ripetono in ogni porzione di mappa. Deacon St. John deve così vedersela soprattutto con nidi di furiosi da bruciare, respingendo gli infetti che si oppongono alla distruzione della loro tana. Oppure deve aprire container medici della Nero, una misteriosa agenzia governativa. In entrambi i casi, la zona circostante diventa relativamente sicura dopo aver portato a termine l'incarico, mentre i container forniscono anche un upgrade con in cui migliorare un valore a scelta tra energia, vigore e focus. Nascoste nella mappa, è possibile trovare anche altre sorprese, come per esempio gli avamposti dei cosiddetti ripugnanti, un gruppo di umani pesantemente armati e totalmente fuori di testa, che venerano i furiosi e la pandemia che li ha generati. Tolti di mezzo i nemici, negli avamposti gestiti da questo folle clan c'è sempre nascosto l'ingresso a un bunker segreto, dove trovare risorse e solitamente anche un progetto per costruire un nuovo gadget. Il crafting è ben realizzato e permette di creare qualsiasi cosa in pochi semplici passaggi, senza imporre pausa al gioco ma limitandosi a rallentarne lo scorrere del tempo. La particolare suddivisione delle missioni raccolti in base alla loro trama aiuta Days Gone ad allontanarsi dall'effetto lista della spesa che di solito prosciuga l'imprevedibilità indispensabile per rendere credibile un open world. Purtroppo le tante attività non sono poi così diverse tra loro e in determinate zone la presenza dei furiosi è fin troppo blanda. Le meccaniche sparatutto sono poi poco approfondite e l'intelligenza artificiale dei nemici non è all'altezza dell'azione stealth immaginata da un utente con più esperienza sulle spalle. A rendere il gameplay più strutturato ci pensano i diversi avamposti con i quali è possibile stringere un'amicizia più o meno profonda. In questo modo si guadagna l'accesso alle diverse aree di specializzazione dei clan, andando a sbloccare potenziamenti per la moto o nuove armi. Andare a caccia di risorse in un mondo pericoloso e decadente sa essere anche molto divertente, ma l'Oregon di Days Gone non sembra pensato per questo. A difficoltà normali, infatti, è difficile ritrovarsi a corto di materiali e gli unici elementi che spingono a deviare dalla campagna sono dei documenti che vanno ad arricchire in un'anonima lista di collezionabili. Un'altra caratteristica di Days Gone è la sua inaspettata longevità. Tra missioni principali e secondarie si va ben oltre le 50 ore, anche a causa di numerosi tempi morti. La maggior parte delle storie non orbita però attorno alle creature generate dall'apocalisse, che per buona parte del gioco ricoprono un ruolo quasi marginale. Anche le famose orde compaiono nella loro versione più spaventosa solo molto tardi, portando persino a dubitare della loro presenza. Procedendo nel gioco e spingendosi verso i bordi della mappa, si scopre però che il loro numero è decisamente alto, e che quelle più nascoste sono anche le più letali, con una quantità di infetti che può raggiungere persino le 500 unità. Vedere questa massa di creature, ciondolanti e furiose, fornisce al gioco di Band Studios quel carattere di cui, a prima vista, sembra quasi del tutto privo. Ma anche in questo caso c'è più di un problema. Le orde compaiono solo poche volte durante la trama, e alla fine risultano un'attività secondaria piuttosto che un elemento costante di gameplay. Affrontare un'orda con un personaggio ben equipaggiato è comunque un esercizio piuttosto divertente, che spinge a sfruttare ogni equipaggiamento e ogni millimetro di scenario a proprio vantaggio. Infatti questi gruppi di furiosi hanno una loro routine quotidiana, che può essere sfruttata per mandargli verso trappole ed esplosivi. La veste grafica di Days Gone è invece del tutto soddisfacente, tra tramonti da favola e ottimi effetti atmosferici. Solo le animazioni facciali mostrano qualche incertezza di troppo, soprattutto nelle fasi più emozionali della campagna. Days Gone si è rivelato un prodotto solido e non privo di sorprese, soprattutto dal punto di vista narrativo. Per certi versi, però, è anche un'occasione sprecata, a causa di un design delle missioni spesso inconcludente e un ruolo troppo marginale degli infetti. Questa roba, io, con quanta gente hai fatto incazzare.